Allora voglio commentare un articolo che è apparso all'interno del sito lavoce.info di Leoncio Rizio, Riccardo Secomandi e Alberto Zanardi, intitolato più energie e meno riqualificazione territoriale nel nuovo PNRR, l'articolo è del 6.12.2023, l'articolo fa riferimento ad alcune modifiche del PNRR che sono state introdotte dal governo, dicono gli autori che non sarà facile trovare risorse aggiuntive e le nuove misure del Repower, che sarebbe questa settima missione del PNRR che è stata aggiunta alle 6 precedenti, dovrebbero prevedere dei sussidi al mondo delle imprese. Il nuovo PNRR dovrebbe essere sottoposto a decisioni di approvazione da parte del Consiglio Europeo di Economia e Finanza proprio nella giornata di oggi. È un nuovo tipo di piano che si è delineato dopo varie trattative tra la Commissione e il governo italiano e che ha comportato anche una proposta di revisione da parte del governo. diciamo questa nuova proposta, dicono gli autori, non è né una promozione né neanche una bruciatura, semplicemente c'è una negoziazione tra Commissione e governo per arrivare ad un accordo e certamente però il nuovo PNRR risulta essere abbastanza diverso rispetto a quello che era stato inizialmente immaginato. Ovviamente bisogna sempre considerare che c'è un piano del PNRR che dovrà fino a 2026 e che prevede non soltanto degli incassi per il governo, prevede anche tutta una serie di obbligazioni che il governo ha assunto nei confronti del piano stesso. Quindi ci sono delle revisioni, la prima revisione è una riduzione di misure, si parla di 107 misure che rimangono invariate, mentre 82 vengono corrette. Per esempio c'è una riduzione del numero degli asini IDO da 264 mila a 150 mila. Inoltre si introducono 23 nuove misure di investimenti e riforme, molte delle quali sono relative alla nuova missione del PNRR che è la che è sostanzialmente, in estrema sintesi, un piano centrato essenzialmente sulle nuove energie e che però prevede anche degli interventi in materia di istruzione, in materia di sanità ed in materia di sussidi alle imprese che vogliono transitare verso forme di energia che sono più sostenibili. Ovviamente diciamo ci sono tutta una serie di interventi che devono essere validati dall'Unione Europea. Ci sono misure che sono state tagliate, sono stati tagliati i piccoli interventi dei comuni, gli investimenti per le aree interne, su infrastrutture sociali di comunità, la promozione degli impianti innovativi, la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. In totale parliamo di circa 7-8 miliardi di misure che sono state tagliate. Poi ci sono misure che sono state definanziate e che in realtà però il Governo voleva tagliare, ovvero investimenti in progetti di rigenerazione urbana, piani urbani integrati, misure per la gestione del rischio dell'ovione, riduzione del rischio idrogeologico. Certamente questo piano potrebbe prevedere, dicono gli autori, una serie di sussidi al mondo delle imprese rispetto alle misure che sono state cancellate e definanziate. Quindi praticamente cosa è successo? Che nel ridefinire gli obiettivi sono state tolte le risorse ai comuni per quasi 6 miliardi di euro e sono state tra virgolette sostituite da interventi nei confronti delle imprese, in favore delle imprese. Questo dice l'autore potrebbe essere una cosa, dicono gli autori, potrebbe essere una cosa buona dal punto di vista della capacità di spesa perché probabilmente dando delle risorse alle imprese si aumenta la capacità di spesa rispetto ai comuni. Ovviamente le aziende hanno più interesse e tendono ad essere più veloci nell'acquisire e spendere i capitali. Tuttavia ci sono anche dei problemi perché bisogna evitare quello che è successo con il superbonus, ovvero bisogna evitare di creare poi delle norme che assorbono parti crescenti di finanza pubblica. Quindi sostanzialmente ci sono 107 misure attualmente alle quali se ne aggiungono 82 che sono cambiate e 3 che sono assolutamente nuove più 17 dell'M7, cioè della nuova missione. Quindi sostanzialmente parliamo di circa 207 misure che bisognerebbe realizzare. Ovviamente diciamo che c'è un problema sostanzialmente di, qui c'è un prospetto anche delle rate, rate che bisognerà restituire, chiaramente l'ultima rata sarà la decima rata nel 2026, totale dei finanziamenti dovrebbe essere 194,3 miliardi, quindi diciamo sia aumentato il PNR di quasi 2 miliardi e sostanzialmente la vera novità è questa nuova missione 7. Il governo voleva chiedere sulla missione 7 19,2 miliardi di euro e ne ha avuti 11,2. In sintesi dicono gli autori quali sono le parti che sono state definanziate e sostanzialmente l'intervento dei piccoli comuni, il piano degli assidi di nido e gli autori dicono che però il governo probabilmente non ce la farà comunque con queste risorse e dovrà chiedere dei nuovi finanziamenti e c'è il problema del debito pubblico, c'è un problema di governance, probabilmente ci sarà un problema di accesso a questi finanziamenti. allora se noi guardiamo quali sono le aree, qui c'è una tabella dove c'è stata una crescita della variazione del finanziamento della missione. La missione 1 ovvero la digitalizzazione è stata aumentata, la missione 2, cioè tutta l'agricoltura sostenibile, energia rinnovabile eccetera eccetera è stata diminuita significativamente, diminuzioni anche sugli investimenti sulle reti, diminuzioni sull'offerta dei servizi dell'istruzione, diminuzioni anche diciamo su elementi diciamo delle politiche del lavoro e infrastrutture sociali. Cioè sostanzialmente diciamo che non è che ci sia tutto questo vantaggio, sono state tolte molte risorse e diciamo sono state attribuite a questo Repower EU. Cioè sono state tolte risorse alla missione 2 sull'agricoltura, economia circolare e sostenibilità, missione 3 sulla rete ferroviare e logistica, missione 4 potenziamento dell'istruzione, missione 5 e poi queste risorse che sono state tolte sono state assegnate invece a Repower EU, questo nuovo obiettivo. Cosa possiamo dire di questo articolo e dei fatti riferiti da questo articolo? Chiaramente prendiamo per buonissimo questo articolo con i dati perché parliamo di economisti che lavorano in questo settore, Alberto Zanardi credo abbia anche dei vuoli nell'ufficio del Parlamento italiano e quindi diciamo parliamo di economisti super mega esperti di finanza pubblica e evidentemente diciamo c'è un problema qui che viene evidenziato. Io questa volta non affronto la questione economica, dico poco sulla questione economica, voglio dire qualcosa sulla questione politica perché guardando questa immagine la tabella 3 che viene presentata in questo articolo noi possiamo vedere chiaramente quella che è stata la scelta del governo, cioè il governo che ha fatto a parte per la digitalizzazione per il quale si è mantenuta, anzi si è leggermente accresciuta la dimensione finanziaria, però per tutti gli altri elementi del piano c'è stata una riduzione e poi c'è stato un aumento, cioè si sono sottratte risorse a obiettivi programmatici precedenti e queste risorse che sono state sottratte e poi sono state aggiunte insieme ad altre all'interno di questo M7, Repower EU. Questo M7 è stato voluto totalmente, integralmente, globalmente da parte del governo, quindi come dire sono 11 miliardi di euro che il governo utilizzerà, adesso diciamo sicuramente ci sono degli obiettivi importanti, la nazione eccetera eccetera, però molto probabilmente questi 11 miliardi di euro sono diciamo politiche clientelarie, clientelistiche del governo, cioè praticamente il governo che cosa ha fatto? Ha usato il PNRR per tirar fuori un nuovo obiettivo nel quale fare clientelismo ed è per questo motivo molto probabilmente che si è scelto diciamo di puntare su interventi che sono molto convenienti e spendibili da un punto di vista di campagna elettorale, da un punto di vista anche di capacità di distribuzione delle risorse finanziarie come per esempio quelli legati alla sostenibilità, oggettivamente finanziare pannelli fotovoltaici, paleoliche ed energia bio o ricerca sull'idrogeno, non è che sia qualcosa diciamo di così particolarmente difficile e complesso in un paese che si è già significativamente avviato ad un investimento strutturale nelle energie rinnovabili. e invece si sono tolte diciamo delle risorse a elementi di politiche sociali che potevano essere molto importanti come la questione degli asili nido e anche elementi diciamo di rafforzamento della rete dei comuni. Diciamoci la verità, 6 miliardi ai comuni sono comunque pochi perché i comuni italiani vivono una condizione finanziaria veramente disastrata e disastrosa dove la dimensione finanziaria dell'equilibrio economico di bilancio viene raggiunta soltanto per motivazioni contabili dove manca molto spesso una previsione cioè il management finanziario dei comuni italiani è veramente da bocciare completamente non ci sono comuni italiani che funzionano da un punto di vista finanziario quindi dare 6 miliardi ai comuni non risolverebbe nulla se non cambiano diciamo delle anche regole d'ingaggio, delle responsabilità, delle metodologie di gestione nei confronti degli enti pubblici che devono necessariamente diventare più efficienti. però sono comunque risorse di cui i comuni hanno bisogno proprio per questi motivi quindi andare a togliere 6 miliardi di euro ai comuni è un fatto molto grave anche perché sarà bello lo Stato, sarà bella la nazione però la gente vive nei comuni, la gente vive nei comuni, nelle città e i servizi che le persone godono, di cui le persone godono, che utilizzano sono servizi comunali, le strade, la rete idrica, le luci, la sicurezza urbana il fatto che ci siano o meno dei presidi sanitari il fatto che ci siano o meno delle scuole o appunto gli asili nido sono tutte cose comunali o che sono riconducibili in un qualche modo ad una dimensione comunale o che comunque si richiede un intervento da parte dei comuni pensiamo per esempio al verde urbano che senso ha oggi parlare di sostenibilità ambientale se non si fanno dei piani per il verde urbano quindi dare oggi, togliere oggi risorse ai comuni capisco che è una scelta politica perché molto probabilmente i comuni che sono gestiti dalla destra in Italia non sono così tanti e facendosi i tuoi calcoli è meglio toglierli dei soldi e darli ad altri darli a chi? darli magari alle imprese e qui c'è il patto diciamo che il governo vuole stipulare con il sistema imprenditoriale chiaramente saranno piccole e medie imprese non si tratterà del big business perché questo non è un governo per il big business perché molto probabilmente gli industriali veri insomma gente che ha dei miliardi considera questo governo un governo scarso diciamo come è però piccoli professionisti piccole partite IVA PMI gente che sta per fallire imprenditori di ventura persone che diciamo si buttano avventurieri degli incentivi potrebbero prendere dei soldi e votare per il governo quindi diciamo a me sembra assolutamente una manovra di tipo clientelare e perché dico questo? perché per esempio non c'era bisogno di togliere 3 miliardi quasi 4 dall'agricoltura sostenibile economia circolare energia rinnovabile efficienza energetica e tutela del territorio per poi andargli a rimettere nel repower EU che senso ha? non avrebbe nessun senso quindi diciamo la sensazione è proprio questa che il governo voglia utilizzare il PNRR per fare la campagna elettorale e la cosa che potrebbe essere grave che probabilmente succederà è che questa campagna elettorale fatta con i soldi pubblici non andrà bene i soldi pubblici verranno spesi inutilmente e la gente probabilmente voterà comunque altrove per il semplice motivo che questo tipo diciamo di governo con questo tipo di politica economica non sta avendo risultati rilevanti da nessuna parte e quindi essenzialmente diciamo se ci sarà una riorganizzazione delle opposizioni cosa che sembra molto probabile con il protagonismo diciamo della Shain e il patto con il Movimento 5 Stelle è un ruolo che bisogna riconoscere oggi questo lo dico soprattutto per il PD bisogna oggi riconoscere un ruolo ai presidenti di regione cioè Michele Emiliano e Vincenzo De Luca insieme con Bonaccini Bonaccini ha avuto un importante riconoscimento durante le scorse primarie però De Luca e Emiliano non sono politici di secondo piano non perché non sono ministri o non sono diciamo capigruppi di Parlamento sono politici di primo piano che nell'affrontare le questioni regionali pongono delle questioni nazionali europee ed anche internazionali quindi oggi il Partito Democratico soprattutto le opposizioni potranno diciamo avere delle nuove chance se riusciranno a riconoscere ai governatori delle regioni e in generale ai politici eletti nei consigli regionali un ruolo particolare nell'amministrazione del partito e nelle campagne elettorali nel fare quindi lo shaping diciamo nel determinare la forma di partito della proposta politica detto questo diciamo è molto strano che il governo avrà più risorse e farà meno cose è molto strano anche che si taglino sugli ase di nido questo è un governo presieduto da una donna e noi tutti ci saremmo aspettati delle politiche per le donne e non si parla di investimenti sulla gender parity non si parla di investimenti sulla formazione delle donne non si ha l'obiettivo di aumentare la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro non si stabiliscono tutto un insieme di politiche di assistenza e cura che possono aiutare le donne ad essere protagoniste dei loro sistemi sociali ed economici e quindi non c'è nulla di solidarietà femminile in questo piano e anzi le donne dovrebbero veramente protestare per la riduzione del numero delle ase di nido dovrebbero veramente protestare e capire che non è che perché c'è una donna che comanda perché questi comandano non governano non è che perché c'è una donna che comanda allora automaticamente i diritti delle donne sono rispettati perché quando una donna che comanda toglie tutti questi di ase di nido beh probabilmente sta facendo qualcosa contro le donne sono top vengono eliminati quasi centomila posti negli anni di ase di nido evidentemente una cosa che si commenta da sola cosa possiamo dire un'estima sintesi un ottimo articolo voglio esprimere nuovamente la mia ammirazione per il professor Alberto Zanardi e dire in sintesi che questo PNRR sembra tutt'altro diciamo rispetto a quello che doveva essere inizialmente se cioè inizialmente si immaginava un piano per il rilancio diciamo dell'Italia oggi invece sembra una corsa alla vendicontazione sembra una diciamo una questione di carte sembra una questione formale burocratica viene veramente da citare De Luca quando dice la palude burocratica sembra che sia diventato questo cioè il ministro che va a Bruxelles per farsi approvare le carte per mettere a posto delle carte che produrranno delle altre carte cioè qui non c'è lo sviluppo economico non c'è un'idea di crescita economica non c'è un'idea di PIL non si è fatta non si è fatta magari neanche una valutazione d'impatto di quanto PIL dovrebbe essere generato in seguito la spesa delle risorse del PNRR cioè mancano tutta una serie di valutazioni diciamo che invece nella visione iniziale di Draghi c'erano però ecco noi non possiamo paragonare Mario Draghi alla Meloni sarebbe è ingiusto è sbagliato penso che anche la Meloni lo sappia quindi diciamo possiamo solo vedere che pur un piano fatto bene gestito da persone assolutamente incompetenti diventa una tragedia diventa diventa una diciamo risorse spese per finità elettoralistiche che non hanno più nulla a che vedere con il sviluppo strategico del paese come evidente dal taglio dei posti di Asinidio dal taglio da risorse comuni quindi la speranza diciamo è che ci sia veramente un dibattito politico sempre più intenso che porti a intendere che la spesa pubblica italiana ha del miracolistico nel senso che un paese con un debito pubblico così alto generalmente non avrebbe tutte queste risorse da spendere eppure avendole avute perché c'è l'Unione Europea sostanzialmente ecco questi piani di spesa sono così dozzinali e veramente elettoralistici che veramente si rimbiance quasi la prima repubblica cioè sarebbe meglio scrivere un piano di tangenti un piano tangentistico piuttosto che questo tipo di PNRR fatto in questo modo che ripetiamo non guarda in nessun modo alle cose chiave del paese perché le cose chiave del paese sono le asili need le scuole la rimozione del gender pay gap quindi investimenti sulle donne l'eliminazione del divario nord-sud le reti le infrastrutture qui si toglie un miliardo si toglie un miliardo di euro alla logistica si toglie un miliardo e sei alle reti si toglie un miliardo e nove alla rete febriaria un miliardo e nove cioè poi voglio capire l'alta velocità Bari-Napoli come fanno queste cose veramente senza senso allora noi capiamo che i politici che fanno la politica per vincere le votazioni dovrebbero stare nel Parlamento e non a Palazzo Chigi dobbiamo smetterla con quest'idea che il capopartito deve stare dentro Palazzo Chigi il capopartito stia al Parlamento chi deve governare lo deve fare con una visione di lungo periodo altrimenti non serve Fratelli d'Italia si troverà malissimo perché disperderà tantissimo e non produrrà nulla questi sono governi assolutamente inutili se non per loro stesse loro probabilmente la loro vita la riusciranno anche a cambiare però la vita dell'italiano non cambia anzi quando noi vediamo i dati dell'istat noi lo sappiamo che la vita dell'italiano è peggiorata da tutti i punti di vista economico sociale sostenibilità relazioni sociali relazioni familiari relazioni amicali partecipazione politica reddito disuguaglianza e quante ne volete chi guarda i dati dell'istat ho scritto quasi oltre 150 articoli sui dati dell'istat quindi so bene diciamo di cosa si tratta e questi questi impatti saranno ancora negativi quindi cosa possiamo dire comunque speriamo che il PNRR venga approvato in questa nuova valutazione perché ovviamente spendere 11 miliardi di euro male è pur sempre meglio di spendere zero però ecco da un punto di vista diciamo finanziario certamente va bocciato completamente questo piano dovrebbero bocciarlo gli italiani non si dovrebbe aspettare la bocciatura dell'Unione Europea cioè questo piano andrebbe bocciato proprio dagli italiani questo dovrebbe essere l'unica soluzione di questa cosa se del resto sono d'accordo con gli autori ci saranno dei problemi per trovare altri finanziamenti probabilmente fitto sarà il ministro che probabilmente sarà più diciamo costretto a fare cose strane per giustificare interventi legislativi che oggi appaiono assolutamente senza senso